E' stata presentata nella giornata di ieri a Potenza la Marcia della Pace, il momento che abbiamo seguito nella sua conferenza di presentazione che si terrà proprio nella giornata di oggi nel capoluogo di Regione Lucano. Un corteo in particolare per dire no a tutte le guerre e che prevede la partecipazione di tutte le parrocchie unite, di tante associazioni, di persone che sono impegnate in prima linea per ribadire questi concetti e questi messaggi che confluiscono sotto il macro tema della pace. Fra questi vi è sicuramente a Gesci Basilicata, noi ci colleghiamo oggi con Roberta Maullà, responsabile a Gesci a livello regionale, la salutiamo, bentrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anche voi sarete in prima linea, parteciperete a questa Marcia della Pace, in che modo e perché avete deciso di aderirvi? Allora, questa Marcia della Pace nasce all'interno del Laboratorio Pace della Parrocchia di Sant'Anna. Noi è già il secondo anno che partecipiamo, questa è la seconda edizione della Marcia e abbiamo deciso di partecipare perché è proprio nel nostro DNA l'educazione alla pace, attraverso l'educazione dei ragazzi. È una cosa insita in a Gesci, per noi la pace passa attraverso la conoscenza, quindi la conoscenza dell'altro, tant'è che ogni anno la Gesci di tutto il mondo organizza un incontro che si chiama Gembori, proprio marmellata di persone al quale partecipano tutti i ragazzi, tutti gli scout provenienti da tutto il mondo. Il prossimo Gembori sarà l'anno prossimo in Corea del Sud e dalla Basilicata abbiamo quattro persone che parteciperanno, quattro ragazzi, Gianluca Tucci e Davide Martulli di Matera e Giorgia Ricciardi e Stefano Coronato di Potenza. E' bellissimo questo momento e presumo che ci siano già in queste giornate gli entusiasmi diffusi tra chi parteciperà a questo appuntamento ma nel vostro gruppo sicuramente. E come vi state preparando, come si stanno preparando i ragazzi? Allora, la preparazione è iniziata da un anno ormai per questi ragazzi che hanno prima diffuso proprio l'idea del Gembori, quello che c'è alla base di questa grande scuola di pace mondiale. Prima nei luoghi di appartenenza, quindi Potenza e Matera, poi i ragazzi si sono preparati a Cosenza partecipando ad alcuni incontri del contingente italiano e lì stanno facendo scuola di pace in presenza. Poi tutto questo verrà portato al Gembori e al loro ritorno, cioè ci sarà anche un ritorno della loro esperienza vissuta e di questo grande messaggio di unione fra i popoli. Ecco, è importante questo perché attraverso l'impegno di queste nuove generazioni si rinsaldano quei valori che appunto parlano di pace, di rispetto del prossimo, anche all'interno delle famiglie. E' questa poi l'azione che si cerca di portare avanti. Sì, sicuramente. Allora, questa marcia della pace, per esempio, non è una marcia estemporanea che nasce quindi dall'oggi al domani, ma è una cosa che viene preparata all'interno delle parrocchie, tra i gruppi di catechismo, all'interno appunto dei nostri gruppi scout, ma delle scuole, insomma di tutti quelli che hanno voluto aderire. Ognuno col suo metodo, col suo modo ha parlato di pace ai propri ragazzi, insieme sono stati costruiti questi cartelloni, e quindi ogni gruppo ha studiato in modo particolare uno degli scenari di guerra. Ma la cosa bella è il seguito. Abbiamo chiesto a tutti i ragazzi di scrivere in che modo possono contribuire a portare la pace in tutto il mondo. Ogni gruppo ha formato una collana di idee che sarà portata domani, cioè oggi, scusate, e stasera sarà messa su un albero d'olivo, proprio come segno di impegno personale, perché pensiamo che per la pace ci voglia innanzitutto un impegno personale. Certo, quello che dice è importantissimo. Noi ringraziamo te per questo importante contributo che ci ha voluto restituire in anteprima, rispetto a questo momento che vi vedrà protagonisti. E facciamo un in bocca al lupo ai ragazzi che parteciperanno all'appuntamento in Corea, come anticipavi, e ovviamente un in bocca al lupo a tutti gli scout per quello che fanno, e per l'impegno bellissimo che mettono a servizio delle nostre comunità. Grazie, grazie a voi. Grazie, a prestissimo. Ringraziamo Roberta Maulà, responsabile, come anticipavo, a Gesci Basilicata.